E questa è la nostra ricetta di cucina per preparare la trippa alla parmigiana. Procedete a lavare con molta attenzione la tappa e fate con dell'acqua sufficientemente fredda a questo punto scolatela e tagliatele a piccole strisce. Procedete a mondare e dopo affettare la cipolla, prendete metà del burro e mettetelo in una casseruola facendolo fondere, unite poi la cipolla e fate appassire per 8 minuti circa. Aggiungete la trippa e dopo circa un 2 m mettete il pomodoro, salate, pepate, mescolate e lasciate cuocere il tutto per un 2 ore circa. Unite dopo brodo quando la passate.